Adottare le mura di Pestum per contribuire alla loro manutenzione, per la quale ogni anno occorrono 100.000 euro. E' questo il singolare e geniale progetto ispirato al senso civico con cui d'ora in avanti si cercherà di proteggere in maniera metaforica ma anche concreta uno dei complessi monumentali più grandi, più ricchi e meglio conservati dell'antichità. Chi lo desidera infatti potrà acquistare uno o più blocchi della cinta muraria versando una quota di 50 euro per ciascuno di essi. In cambio si riceverà la carta di identità simbolica di cittadini di Pestum e si potrà godere di alcuni benefici come l'ingresso gratuito al sito per un anno. I primi ad aderire all'interessante iniziativa sono stati due tedeschi che, sentendo parlare della proposta, hanno contattato la direzione del parco e hanno adottato con una quota di 400 euro i primi otto blocchi delle mura, dando così l'avvio ufficiale al progetto. Nelle città antiche le opere pubbliche erano sostenute direttamente dai cittadini, spiega il direttore del parco di Pestum, Gabriel Zuck-Triegel. Partecipando a questa iniziativa si contribuirà ad incrementare i fondi per l'importante sito e alla difesa dunque del patrimonio archeologico. Il nostro obiettivo, prosegue Zuck-Triegel, è infatti quello di investire una parte dei finanziamenti europei che abbiamo ottenuto per l'area archeologica per il percorso delle mura, per renderne visitabile un tratto più lungo e creare il collegamento tra la stazione, il sito e il tratto verso il mare, per offrire anche questo percorso ai visitatori. Fino ad oggi a sostenere il parco nella manutenzione delle mura c'erano già il comune di Capaccio Pestum, la banca di credito cooperativo di Capaccio Pestum e il legambiente Pestum. Tutte le informazioni che riguardano il progetto delle mura in adozione sono reperibili sul sito www.museopestum.beniculturali.it www.museopestum.com.br